PEGI 16 Siete la nostra unica speranza Concentrate il fuoco sul camminatore Vi stiamo aspettando In commissione Per la ribellione Non mettetevi contro di me Scudo attivato Non succederà di nuovo Forza! Quei camminatori non devono arrivare alla volta La vostra vittoria non durerà Ora tocca a me Muotersi! A tutte le unità Non dategli pregua! Vi siamo spazzola! Non lo so dire! Che la forza sia con noi La vostra ribellione finisce ora! 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 Grazie a tutti